Come? Ciao a tutti, ci troviamo al congresso di Innsbruck dove tutte le squadre si riuniscono per mangiare e per festeggiare insieme dopo una gara o dopo un allenamento Come? Dove possiamo seguire programmi culturali ed educativi come oggi si è svolto un programma del tamburello dove abbiamo partecipato diciamo una buona quantità di atleti italiani Sono un... Vi do appuntamento domani al medal plazza per festeggiare Non mi stanno intervistando, mi stanno intervistando, mi stanno riprendendo E va bene, ciao papà, ciao ciao